Ma lei ha idea di cosa ha scatenato? Ma che accidenti è? Come hai fatto a uscire vivo dall'aereo? Non hai neanche un graffio su tutto il corpo. Lei è ancora vivo perché è stato scelto. Scelto? Da cosa? Da un ale supremo. Benvenuti in un mondo nuovo. Di dèi e di mostri. Hai visto, vero? Mi ha fatto qualcosa. Questo antico potere è tornato. Uccidila, uccidila! No! Ha paura. A volte ci vuole un mostro per combattere un mostro. Vai, 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 vai! È la mia faccia! È la mia faccia! È la mia faccia! Scappa! iscriviti al nostro canale